Un buongiorno, ben svegliati questo martedì 8 gennaio, siamo pronti con la nostra rassegna per andare a vedere i principali titoli e le principali notizie che ci vengono dal mondo, dall'Italia ma soprattutto come faremo nella seconda parte nella nostra regione in cui sfoglieremo dall'interno i nostri quotidiani in questa prima parte come di consueto invece spazio alle prime pagine non sono non solo delle testate di casa nostra anche delle testate nazionali cominciamo come detto con i giornali di casa nostra con le quattro edizioni del centro questa è quella di Pescara con cui apriamo e l'apertura è dedicata a Rigopiano perché oggi Di Marco è dal PM, interrogatorio per l'ex presidente della provincia giovedì invece toccherà a Provolo, ovviamente giornata che seguiremo con dovizia di particolari di cui vi daremo conto nel corso della prima edizione del nostro telegiornale alle ore 14 in alto ovviamente si torna a parlare delle elezioni in Abruzzo regionali verso 16 liste, 464 candidati poi ci sono anche due box che riguardano la politica nazionale la ricetta di Salvini contro la violenza negli stadi vertice al Viminale e poi le due navi bloccate Monsignor Forte aiutare i migranti è un dovere scendiamo a centro pagina, ovviamente siamo sull'edizione di Pescara allora Lotteria Italia a tutti i numeri dei 205 biglietti vincenti ed è caccia ai vincitori pescaresi i due biglietti da 50 mila euro venduti a Porta Nuova e in centro e complimenti dunque a chi ha vinto, chi è stato così fortunato nelle cronache sempre a Pescara arepedonale ZTL sia alle auto elettriche il porto invece insabbiato i pescherecci allora purtroppo si incagliano nel centro storico di Città Sant'Angelo telecamere contro i vandali dall'altra parte troviamo i numeri molto soddisfacenti evidentemente del Pescara che in questo momento è fermo per la pausa del campionato di Serie B però le prime 18 gare sono da favola Pilon vicino al record che fu di Zeman dopo 18 gare leggiamo il Pescara secondo con 32 punti e 37 tornei di B disputati dal Delfino solo un allenatore è riuscito ad avere un rendimento migliore Zeman che nel 2011-2012 collezionò solo un punto in più però in fondo 33. Cambiamo edizione del centro andiamo su quella di Chieti Lanciano Vasto l'apertura è di cronaca investita e uccisa tre anni all'autista Chieti conducente di bus condannato per omicidio stradale era distratto dal cellulare ovviamente non torniamo sui box in alto che sono sempre uguali nelle quattro edizioni anche qui l'Ottene d'Italia ha tutti i numeri vincenti invece a Torino di Sangro c'è chi ha vinto giocando il biglietto vincente in un autogrill centrati di 25.000 euro come negli anni scorsi nelle cronache a Chieti assessori 4 su 8 verso l'emiciclo e dunque assessori in fuga su 8 componenti della giunta di primio 4 saranno candidate alle elezioni regionali del prossimo 10 febbraio Chieti e Lanciano scuole piove nelle aule gli alunni rimangono dunque al freddo a Vasto il sindaco menna qui la capitale dei trabocchi dall'altra parte San Salvo perde abitanti tengono invece le aree interne diminuisce la popolazione di San Salvo leggiamo la città perde 11 residenti se a fine 2017 erano 20.184 adesso sono 20.173 per la prima volta dopo il 2011 il numero dei residenti è in calo andiamo sull'edizione terramana del centro questa è l'apertura scuole medie riaperte in due paesi a due anni dal sisma Isola del Gran Sasso e Tottea di Crognaleto riavranno dunque le classi una buona notizia ancora Lotteria Italia la fortuna sbanca lì per la colonnella 25 mila euro a un cliente che ha giocato nel centro commerciale anche per lui ovviamente chiunque esso sia complimenti e auguri ovviamente a Teramo due sfrattate vivono in auto ma avranno l'hotel pagato mai più un terramano dovrà dormire in auto la parola è del sindaco Gianguido Alberto che ieri ha incontrato le due donne sfrattate dalla casa Ater Martinsicuro Ponte Pedonale sul Tronto sarà pronto nel 2021 e poi a Pineto l'ex questore Passamonti si candida come sindaco dall'altra parte lo sport Costantino non accetta l'offerta del Teramo colpo di scena si è improvvisamente arenata la trattativa tra Rocco Costantino e il Teramo il mercato in entrata del diavolo adesso si complica parecchio l'edizione aquilana demolizione in centro fino al 2030 l'Aquila la protesta dei residenti di via Sallustio per lo stallo della ricostruzione vediamo in provincia dell'Aquila dove si è vinto a Sulmona la fortuna bacia Sulmona venduta nella tabaccheria del corso il tagliato da 25 mila euro l'Aquila il consiglio comunale l'opposizione contro Biondi dopo gli schiaffi gli schiaffi volati in piazza Duomo in occasione del Brizzi i Salvini sono rimbalzati in consiglio comunale opposizione all'attacco di Biondi a Avezzano il piromone confessa sette anni di incendi e all'Aquila marciapiedi e scuole nella morsa del gelo siamo nell'alto sangro Checco Zalone da brividi sulle strade da Roccaraso l'attore soccorso era rimasto impantanato col pulmino navetta che lo stava accompagnando sulle piste da sci quando a soccorre era arrivato il sindaco Francesco Di Donato dall'incontro tra Checco Zalone il primo cittadino di Roccaraso è nato poi un video che è diventato ovviamente virale cambiamo quotidiano adesso andiamo sulle colonne del messaggero ovviamente l'edizione abruzzese e questa è l'apertura Rigopiano Rebus telefonate dopo l'allarme inascoltato di Gabriele D'Angelo acquisito tutto il traffico mobile i tabulati riguardano le conversazioni dell'ex prefetto Provolo D'Alfonso e Di Marco vedremo che cosa ne uscirà all'Aquila Biondi contestato in consiglio comunale cominciata male finita peggio la seduta straordinaria del consiglio comunale aquilano di spalla ritroviamo i premi Lotta dell'Italia quattro premi di consolazione agli abruzzesi che come avete visto sono state un po' distribuite tra le quattro province in alto nei box autostrada danneggia il casello con la sega elettrica avevo fretta di andare al lavoro insomma un'antizia un po' particolare terremoto ricostruzione mancano i soldi per pagare tecnici ed esperti e poi il Pescara può andare in A ma come leggiamo il mercato a questo punto può diventare decisivo parla Donatelli il braccio destro di Oddo intanto del sole Cocco hanno le valigie in mano per l'attacco in arrivo Bellini dal Sud America a centro pagina usava il cellulare mentre guidava leggiamo mentre guidava l'autobus tre anni Chieti una donna investita sulle strisce allo scalo dura condanna per l'autista Paolo Crisante Chieti e Teramo gli studenti in classe con i cappotti i bambini tornano a scuola al gelo rientra a scuola al gelo per alcuni piccoli studenti delle primarie di Chieti e Teramo in alcuni casi i genitori hanno proprio riportato a casa i figli in altri i bambini sono rimasti in aula con i cappotti e poi a Lanciano come vediamo in basso l'impennata dello stalking è stato un anno di duro lavoro nella quale insomma ci sono stati 1628 fascicoli arretrati a parlare il procuratore capo di Lanciano Mirvana di Serio fascicoli arretrati oltre che a contrastare la criminalità evidentemente lo stalking è uno dei reati che è in maggiore crescita andiamo in provincia di Teramo con la prima pagina del quotidiano la città sarà sfida a 4 per il foro presentate le liste sono elezioni sì ma per l'ordine degli avvocati la commissione elettorale si insedia a porte chiuse in alto Gigi Ponziani libero fischio in libera piazza l'assessore ha cantato Bella Ciao contro Salvini Scuole Teramane la Delfico prende il posto del Savini e poi scrutatori 18 anni disoccupati AAA cercasi a Teramo a centro pagina Roseto il lungomare insabbiato dalla ciclopedonale come vediamo nella foto il percorso appena realizzato è un disastro vediamo di spalla altre notizie perché dopo un lungo silenzio Mastromauro ufficializza la corsa nella lista Legnini a Martinsicuro Ponte sul Tronto pronto entro due anni soluzione per le sfrattate da Salvini casa parcheggio a madre e figlia che vivono in macchina e poi per il calcio mercato come vediamo Costantino dice di no al Teramo e se ne va a giocare nella Triestina almeno così pare chiudiamo con i quotidiani di casa nostra con le prime pagine andiamo sui quotidiani nazionali ovviamente troveremo in quasi tutte le testate nazionali la questione Carige e il duello a distanza il voto e risposta a distanza tra Italia e Francia sulla questione dei gile gialli il Corriere della Sera con cui apriamo è che sceglie ovviamente la questione Carige perché ora il governo salva Carige gile gialli lì di Italia Francia Di Maio le elogia la replica fate pulizia da voi ma per quanto riguarda Carige lo Stato garantirà i nuovi bond dell'istituto genovese sullo sfondo c'è l'ipotesi della nazionalizzazione della banca e poi nel Regno Unito la scoperta dopo 20 anni non sono il padre dei miei figli questa è la foto leggiamo rapidamente l'apertura rende rende padri generare una bimba o un bimbo farli crescere educare accompagnarli nella vita una domanda che gli inglesi si sono posti di fronte alla storia di Richard Mason di sua moglie Kate e dei loro tre ragazzi lui è un uomo d'affari cui viene diagnosticata una malattia che scopre lo ha reso sterile dalla nascita i tre figli e i tre figli che ha avuto frutto di una relazione della moglie con un altro uomo il problema è averlo scoperto dopo così tanto tempo evidentemente immaginiamo il fatto quotidiano verso l'europea di Maio di Battista in gile giallo Salvini in Polonia e i suoi dai nazi verso l'europea i 5 stelle con i manifestanti francesi il governo Macron protesta in alto Sea-Watch una delle due una delle due navi dell'ONG con dei migranti Conte contro i leghisti Aquarius si indaga per omissione il Premier 15 vengono da noi la Procura di Roma punta il Viminale e poi in basso a Brescia la mamma della bambina morta pensavamo hanno una fatalità ora voglio la verità su Nicole la Repubblica di Maio patto con i gile gialli Ira di Parigi fate pulizia da voi Salvini sia la protesta noi violenti migranti fermi in mare resta l'attenzione Tacconte e la Lega in alto una notizia perché la Ferrari cambia Binotto sarà il nuovo Team Principal l'obiettivo ovviamente è riportare il Mondiale a Maranello dunque l'addio ufficiale dell'ex oramai Team Principal Maurizio arriva bene la banca in crisi carige tutela di Stato sui risparmiatori possibile anche la nazionalizzazione e poi la vicenda che riguarda il ritorno di Kevin Spacey non sono colpevole comparso in tribunale a Nantucket per rispondere alle accuse di molestie sessuali su un ragazzo la notizia è questa di un attore famosissimo come Kevin Spacey che ritroviamo anche in altri quotidiani il messaggero che sceglie di aprire con carige salvataggio di Stato il CDM riunito d'urgenza ha parato un decreto che contempla la ricapitalizzazione dell'istituto dopo gli stress test BC la situazione patrimoniale precipitata garanzia pubblica sulla liquidità di carige gile gialli elite con la Francia per l'elogio di Di Maio e Salvini leader Movimento 5 Stelle vi offriamo la piattaforma Russo e Parigi dice fate pulizia da voi spesi la condanna preventiva che fa male al cinema risi a 5 anni di carcere per presunte molestie e poi sicurezza 5 regioni ricorrono alla consulta il ricatto di Malta blocchi migranti la UE li prendiamo no del Viminale il mattino Corianti Napoli no allo stop perché tra le altre cose ieri c'è stato anche un vertice sulle sulle violenze negli stadi vertice tra calcio e governo Salvini sono contrari a chiudere le curve e sospendere le partite la federazione ma FIFA e UEFA chiedono la linea dura proposti i treni speciali e le celle negli stadi visto che siamo sulle colonne del mattino dunque spazio ai temi che riguardano Napoli la vergogna infinita dei malati curati in Barella assalto dal Cardarelli al Santo Bono Di Maio fa il filo ai gile gialli l'ira di Parigi offerta alla protesta la piattaforma russo l'Eliseo prima fate pulizia in casa vostra il manifesto la deriva del continente questa è l'apertura ovviamente focus sulla questione migranti dopo 17 giorni in mare i 49 migranti a bordo delle due navi delle ONG non c'è ancora una soluzione i medici lanciano l'allarme rischio gesti di autolesionismo mentre Malta blocca qualsiasi accordo in sede UE Salvini ribadisce decido io non prendiamo nessuno trivelle ambientalisti contro il movimento 5 stelle il vice premier smentito sulle nuove autorizzazioni cambiamo quotidiano libero che cambia l'apertura invece si dedica al reddito di cittadinanza caccia al reddito di cittadinanza un esercito di accattoni si avventa sul sussidio una massa di italiani si prenota per riscuotere la mancia di Stato tutti sono convinti di beneficiarne in realtà le risorse a disposizione sono minime e sarà una delusione così si legge punto su libero polemiche sterili sui migranti in mare un bastimento carico di falsità scrive Pietro Senaldi il sole 24 ore cartelle con reddito fino a 40 mila euro sconto sul condono scatto l'operazione fase fiscale per i contribuenti con maggiore difficoltà e poi reddito di cittadinanza chi ha figli non dovrà spostarsi per lavorare banche intesa sfida alla UE con 650 cause e poi sulla questione carigie garanzia statale sui bond ricapitalizzazione pubblica pronta salvataggi stesso ITER delle banche venete che ricorderete Anton Veneta per esempio lo Stato garantisce emissioni di strumenti di liquidità il tempo salva banche del cambiamento il governo mette la garanzia di Stato sulle obbligazioni carigie apre alla nazionalizzazione intervento identico a quello che fece il PD sulle banche venete e su Monte dei Paschi di Siena e i grillini tuonarono in alto allarme in corsia resteremo senza pediatri 5.000 medici in pensione nei prossimi anni col turnover bloccato ci sarà mancanza pure di ginecologi e anestesisti la fotonotizia in arrivo al cinema la parodia ironica dei banditi con Edoardo Leo nei panni di Renatino De Pedis riecco la banda della Magliana ma è da ridere sesta pellicola da regista di Massimiliano Bruno non ci resta che il crimine nelle sale da giovedì questa interpretazione differente un po' ironica della banda dei componenti della banda della Magliana la stampa linea morbida sugli ultra Salvini non chiuderò gli stadi per i cori razzisti il vice premier propone di tornare all'uso dei treni per il tifo per le trasferte e poi misura approvata in consiglio dei ministri Carige c'è la garanzia di stato sui nuovi bond Conte lo facciamo per difendere i risparmiatori Golden Globes il mito del Queen oscura la stella di Lady Gaga Lady Gaga con diciamo il molto più famoso Brian May il Bignami su Freddie Mercury propone anche la stampa la verità Europa il corrispondente da Bruxelles accusa il Corriere di raccontare balle Ivo Caizzi denuncia la manipolazione delle notizie sulla trattativa con l'UE operata da direttore e vice direttore e si chiede se ciò non abbia influito sui mercati favorendo mega speculatori che in quei giorni scommettevano sulla destabilizzazione dell'Italia scandalo in via Solferino dunque la verità che insomma attacca il Corriere della Sera nemmeno troppo indirettamente le forche caudine dei turisti i clochard cacciati dal Vaticano la polemica sui barboni tocca il fondo dell'ipocrisia polemica scatenata lo sapete dalla vicenda di Trieste regioni rosse in fila per denunciare Salvini Piemonte Emilia Romagna e Umbria si accoda la Toscana nel ricorso contro il decreto sicurezza il secolo quotidiano di Fratelli d'Italia l'ultima renzata Fratelli d'Italia chiede l'immediato cancellazione dell'obbligo di fatturazione elettronica dichiarato il capogruppo alla Camera Lollobrigida e poi altre notizie bilinguismo in alto Adige Meloni serviva una tragedia e poi la nuova Europa ci sarà e oggi passa da Visegrad allarme da San Patrignano ingressi saliti a oltre il 70% questi sono i numeri un po' allarmanti della comunità di San Patrignano l'avvenire con cui chiudiamo i quotidiani generalisti il Papa dice ascoltare il popolo ma cercando la solidarietà nel discorso al corpo diplomatico Francesco sottolinea i rischi legati a riapparire di pulsioni nazionaliste il buon politico cerchi l'unità il fatto eppure non si muovono migranti allo stremo sulle navi ONG le cancellerie trattano senza però decidere non si risolve il caso si watch e si hai 5 regioni mandano alla consulta il decreto sicurezza chiudiamo con i quotidiani sportivi partendo dalla gazzetta dello sport il sogno nero-azzurro intercaccia all'oro riaperta la via per Modric il club è pronto a cavalcare il suo mal di pancia reale e c'è l'assalto anche a Rodrigo De Paul centrocampista dell'udinese di spalla Pacchetta corre Allegria Milan ora ti aiuto io dice il nuovo acquisto rosso-nero CR7 la sfida 2019 è andare in gol anche su punizione notizie di mercato Genoa Sturaro e Pezzella Toro tutti vogliono Mete ma in alto troviamo ovviamente l'altra apertura è la nuova era della Ferrari Binotto avrà pieni poteri Leclerc adesso è più libero ufficializzata la rivoluzione rossa con l'addio ad Arrivabene cosa può cambiare in squadra peraltro l'anticipazione ieri proprio di Gazzetta dello Sport che aveva già parlato in mattinata di questo cambio dell'addio di Maurizio arriva bene dell'arrivo e della promozione di fatto di Mattia Binotto come team principal effettivamente a distanza di qualche ora poi è stata ufficializzata proprio dalla scuderia di Maranello in basso Salvini no a stop per i cori razzisti sì alle trasferte il ministro ci sono 6.000 teppisti li sradicheremo Miciche pene severe e poi per il volley Piccinini vinco la settima Champions e vado a Masterchef 40 anni di una regina del volley e poi per il ciclismo Nibali tentato dal 2020 dalla track Segafredo potrebbe dunque lasciare la Bahrain Merida il corriere dello sport Casino Real e la crisi dei Blancos agita il mercato ora i campioni vogliono abbandonare Madrid e non partecipare alla rifondazione Modric c'è cross verso l'Inter Florentino allora si lancia su Icardi altre notizie di mercato Roma e Tiago Mendes il brasiliano dell'Illa può diventare l'erede di De Rossi si tratta Varela Sarri si sbilancia il tecnico insiste l'Azzurro subito al Chelsea con Higuain in basso Pacchettà Milan Pacchettà è pronto in Supercoppa ci sarà il debutto l'abbraccio di Gattuso al brasiliano Agedda vuole mandarlo in campo in alto arriva bene allora diventerà amministratore delegato della Juve ormai ex team principal della Ferrari al suo posto Mattia Binotto il manager Bresciano potrebbe sostituire Marotta faccia a faccia con Andrea Agnelli previsto addirittura oggi violenza negli stadi la risposta del governo dal super tavolo di ieri a Roma il decalogo Salvini Giorgetti e infine chiudiamo con tutto sport svolta Juve Allegri come il trap Maxi insegue il record di permanenza sulla panchina bianconera entro marzo il tecnico deciderà il suo futuro crescono le probabilità di un prolungamento del contratto scadenza 2020 attualmente scadenza 2020 la Juve vorrebbe rinnovarlo evidentemente di spalla il Toro compra Ola dal Chelsea ma è duello per Pereira in basso poi torniamo sotto la testata ovviamente Milan a fondo per Benassia la chiave può essere Higuain Inter Perisic il big in partenza per l'asso di centrocampo nella foto c'è Mirinkovic Savic niente Marsiglia Balotelli offerto a Samp Parma e Bologna e poi vendita di Torino passi avanti ovviamente parliamo di Torino basket passi avanti giovedì l'incontro decisivo saliamo in alto perché c'è la questione ancora Ferrari il cui colpo è Binotto vi arriva bene ora comanda l'ingegnere che piaceva la Mercedes tutti in retroscena del ribaltone a Maranello ci fermiamo si chiude qui questa prima parte adesso le previsioni del meteo la pubblicità poi torniamo insieme per sfogliare i quotidiani di casa nostra seconda parte di mattino 6 entriamo all'interno dei quotidiani di casa nostra ripartiamo dalla pagina Abruzzo del centro che ovviamente si concentra sulle prossime elezioni regionali il voto per le regionali ecco i numeri elezioni verso 16 liste con 464 candidati Legnini al numero maggiore Marsiglia oggi si gioca un doppio accordo la Marcozzi domani svela i nomi e spunta Acerbo questi sono insomma i candidati che per il momento dovrebbero giocarsi la poltrona di governatore anche se in questo momento Maurizio Acerbo è solo un'idea quella di riprovarci tanto le diciamo nel box Bellachioma non incontra Di Stefano mentre il segretario di rifondazione scrive ai quattro prefetti alla corte dei conti come ultimo tentativo di spostare il voto a maggio gli abruzzesi manifestano già Roma gli agricoltori contro la manovra protesta di Coldiretti per chiedere sostegni per i produttori di olio cambiamo pagina e anche argomento andiamo sulla viabilità pescara le aree pedonali aperte alle auto elettriche ibride la legge consente l'accesso nelle isole nelle ZTL scatta l'allarme in comune la differenza tra l'auto elettrica e l'auto ibrida viene spiegato nel nello specchietto trovate a pagina 13 e c'è anche il codice della strada il regolamento come cambia poi andiamo avanti Sartorelli un pericolo il ritorno del traffico il presidente dell'ACI parla della norma inserita dal governo finanziaria saranno invase le zone riservate a chi va a piedi veicoli ibridi sono già tanti regolamento dei vigili tra poco vedremo anche il servizio Teodoro non si ferma l'assessore avverte i sindacati che protestano sono le migliori norme d'Italia non le cambierò e allora proprio su questo argomento andiamo ad ascoltare le parole dell'assessore Teodoro intervistato dal nostro Paolo Renzetti primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Pescara il nuovo regolamento della Polizia Municipale un regolamento assessore Teodoro che vede però una parte cospicua dei vigili urbani di Pescara contrari guardi io capisco ho letto anche le motivazioni ma noi ci siamo esattamente limitati a modificare il regolamento in base alle nuove attività legislative che nel corso di questi anni si sono susseguite e che hanno prodotto nuove leggi in materia di sicurezza urbana e in materia anche di regolamentazione del corpo stesso e ci siamo limitati a far questo nel fare questo abbiamo valutato alcuni aspetti di ordine organizzativo che certamente non coincidono con le piene volontà da parte delle sigle sindacali ma evidentemente coincide invece con la piena volontà dell'amministrazione comunale che pensa di aver interloquito ai tavoli ufficiali con i sindacati e non solo con i sindacati perché questa delibera da me proposta è stata trasferita come da procedura al vaglio e alla valutazione della commissione consigliare permanente va bene che è dove sono rappresentati tutte le espressioni del consiglio comunale pertanto si è fatto un lavoro lungo complesso di alcuni mesi circa 30 sedute va bene siamo tornati nuovamente in aula accettando un numero pari a una decina di emendamenti di osservazioni che da questo lavoro è venuto fuori e oggi credo che il regolamento di Polizia Municipale sia tra i migliori d'Italia così come approvato non del centro Italia tra i migliori in Italia non c'è il rischio di andare allo scontro con il corpo della Polizia Municipale? non c'è alcun rischio perché come la logica insegna ci sono voglio dire professionisti espressioni che di questo mondo voglio dire ne hanno fatto il loro lavoro la loro vita e mi riferisco all'esperienza del comandante all'esperienza del corpo degli ufficiali che hanno lavorato e che hanno suggerito quali sono gli elementi essenziali certo i sindacati vorrebbero come dire ottenere di più ma in una sorta di trattativa qualcosa si accoglie e qualcosa si respinge e così è andata come accade normalmente democraticamente in tutti i livelli istituzionali dove c'è un confronto tra la parte pubblica e il sindacato continuiamo la lettura dei quotidiani restando a Pescara l'emergenza fondale i pescherecci incagliati nel porto insabbiato difficile entrare uscire in sicurezza le barche vengono dirottate verso Ortona tua ecco dove fare i biglietti per l'autobus i cittadini non li trovano in bar e tabaccarie la società fate i ticket a bordo non ci saranno sanzioni e poi la fortuna bacia porta nuova il centro i due biglietti a 50 mila euro sono stati venduti in edicola di via Belento Croce alla tabaccheria di piazza Salotto a centropagina bancario rapinatore i colleghi siamo scioccati impensabile in basso a Diva Marano 91 anni storico sindacalista della CGL oggi funerale ai colli verso le regionali centro-sinistra Martelli lancia la sinistra italiana il consigliere rompe con il partito che sceglie di appoggiare Legnini cambiamo pagina Rigopiano Di Marco oggi faccia a faccia con i PM in procura anche di Incecco Di Blasio il gestore del resort di Tommaso depositati i tabulati delle telefonate dell'ex presidente della provincia Di D'Alfonso e dell'ex prefetto Provolo vediamo un'altra notizia impegnati per far vincere l'Abruzzo l'invito di D'Alfonso all'ex presidente Di Marco nella sala gremita per il bilancio dei 4 anni in provincia a pagina 20 il banchetto degli invisibili a tavola con 60 poveri così vince la solidarietà pranzo per i senza tetto allo stabilimento Tahiti di Benedetto e Trulli organizzato con la mensa di San Francesco per noi e come tornare a casa in basso ragazza ferita dopo lo schianto incidente a San Silvestro 24enne di Francavilla ricoverata in ortopedia a Montesilvano un milione di euro di lavori per rinnovare il centro trisi il comune stipula il mutuo con il credito sportivo per la riqualificazione degli impianti di via San Gottardo sarà realizzato anche un campo di paddl sede permanente ai vigili del fuoco appello a Salvini in basso sempre Montesilvano servizio 118 pronto a lasciare la stazione firmata la convenzione con concessione all'ASL dei locali della Guardia Medica di via Inghilterra cambiamo in pagina siamo a Spoltore strade cimitero le priorità di Spoltore per 13 milioni di euro piano triennale 19-21 delle opere pubbliche tra gli interventi anche illuminazione parco del convento a centropagina Città Sant'Angelo in arrivo le nuove telecamere contro i vandali alla rete già esistente si aggiunge il doppio impianto in via Diaz in Vico Vassallo e in basso vediamo i lavori nella scuola dell'infanzia a Fonte dell'Olmo a Francavilla Caldaia in Tilt a Ole Fredde nella scuola dell'infanzia disagi nei locali di via Montecorno gli alunni trasferiti negli ambienti di via Monte Amaro immediato l'intervento dei tecnici e il riscaldamento reattivato San Giovanni oggi San Giovanni Tietino oggi zone senza luce per i lavori dell'Enel a centropagina vediamo la decadenza del consiglio lettera al prefetto il pentastellato siamo a Cepagatti il pentastellato Fiucci chiede l'annullamento del procedimento che contesta tre assenze poi al foro di Francavilla una tartaruga marina trovata morta in spiaggia ricostruzione a rischio siamo a pagina 24 l'ufficio lascia Cugnoli sarà colpato a fossa il sindaco Chiola interpella il sottosegretario Crimi si temono ritardi del blocco degli interventi previsti nei comuni fuori cratere e in basso a penne di sesto idrologico partono i lavori aggiudicato un'associazione di imprese intervento su zona portella e contrada Mallo qui siamo a Chiedi tra poco ci arriveremo però torniamo cambiamo quotidiano adesso ripartiamo con il messaggero con Martina all'Aquila con Stefania Pezzopane lo vedete anche nella foto con Legnini un partito aperto ma il simbolo ci sarà il leader PD parla all'Aquila il candidato non è presente siamo tutti a fianco di Giovanni serve uno con la sua personalità e invece Marsiglio in alto sangro Di Stefano decide oggi se entrare nella coalizione in basso c'è un articolo firmato Stefano Cianciotta che riguarda tutt'altro la riforma del credito per il rilancio dell'economia a Pescara gelo e code nel centro per l'impiego ore di attesa negli uffici temperature polari impiegati ridotti all'osso alla vigilia del varo del reddito di cittadinanza aperta il 3 gennaio una sede provvisoria in via Passo Lanciano disagi e proteste per la gestione delle file con i numeri in mano e poi la commemorazione in basso calici di commozione per l'amico Daniele Becci l'ex presidente della Camera di Commercio ricordato al Marina dagli amici a un anno esatto dalla sua scomparsa regolamento dei vigili come abbiamo visto la maggioranza la prova di forza Teodoro e Magitti tirano dritto è la migliore d'Italia i sindacati chiedono lo stop 70 gli emendamenti da discutere e poi a corsa alla regione di Marco Falpieno messaggio al PD altra notizia che riguarda sempre Pescara la City e Mare Inquinato slittano le sentenze udienze rinviate sui casi unificati che coinvolgono Alessandrini Del Vecchio e Antonelli e in basso come abbiamo letto la CGL piange Giuseppe Marano figura storica del PC e sindacato il ricordo di Melilla sempre al fianco dei lavoratori Rigopiano tabulati al setaccio quattro cellulari nel mirino la vigilia del nuovo giro di interrogatori depositati i dati dai carabinieri forestali l'analisi di sms traffico mobile richiesta dai difensori del sindaco di Farindola vedremo un po' quali saranno gli sviluppi e poi la ricostruzione è difficile chiuso l'ufficio di Cugnoli cambiamo provincia andiamo all'Aquila non è la mia indole in aula scatta la protesta contro Biondi l'opposizione espone cartelli polemici durante la seduta del consiglio comunale riferimento alle dichiarazioni rese per motivare lo scontro con un contestatore musp di spalla scuola e progetto case tante lamentele per il freddo governance della ricostruzione fico titolare dell'ufficio speciale del cratere in basso la notizia che avevamo detto in apertura che era anche un richiamo aveva anche un richiamo in prima con la motosega al casello viene arrestato Palazzo De Nardis rinasce un altro gioiello restiamo all'Aquila lo splendido edificio insiste nel quarto di San Marciano una tra i più colpite del terremoto di quasi dieci anni fa i lavori di miglioramento sismico sono praticamente terminati l'importante intervento concluso sul maestoso scalone interno il Tacuino dell'Arte la sede del Maxi a Dardinghelli proviamo a ragionarci un po' su cambiamo pagina scippatore steriale per comprare la droga ancora un assalto ad una donna nei pressi della stazione ad Avezzano dopo quello dell'altro giorno la zona resa a forte rischio la signora era con una bambina di sei anni il suo compagno ha inseguito il malvivente la sua borsetta è stata recuperata sempre ad Avezzano l'autopsia conferma il 44enne è morto per il freddo in basso altre notizie a Sulmona ecco le misure della ASL per la carenza dei pediatri e poi verso il voto anche qui Marsiglio tour elettorale in alto sangro in basso aumenti e balzelli per i marsicani a inizio anno a Chiedi scuole rientro al freddo scoppia l'ira dei genitori diverse situazioni spiacevoli segnalate ieri mattina dentro plessi poco accoglienti nel mirino la primaria di via Pescara a Brecciarola e alla Corradi in via Arenazze di spalla bus autista il cellulare condannato a tre anni investì una donna sulle strisce secondo il giudice stava usando lo smartphone alla guida la stagione musicale 11 concerti al Marruccino previsti anche appuntamenti più intimi insomma ovviamente una stagione sempre di altissimo profilo al teatro Marruccino cambiamo decisamente argomento andando a Lanciano perché cresce invece lo stalking ai danni delle donne tracciato un bilancio dell'attività 2018 della procura con contrasto a furti e rapine come quella ai coniugi martelli che ricorderete davvero recente Mirvana di serio è stato un anno di duro lavoro smaltiti 1628 fascicoli arretrati oltre al contrasto alla criminalità scuole al freddo anche a Lanciano ritorno in classe shock per colpa di vandali e di dimenticanze in basso a vasto un tesoretto da tassa di soggiorno è rottamazione a Teramo case inagibili per il sisma ecco i primi ricorsi al Tar due cittadini impugnano le schede a Edes certificano gravi danni ma non è vero timore in comune per il possibile effetto cadena dell'iniziativa legale e poi scuola bussino in regola scagionata l'impresa questa è l'indagine che riguarda la ditta campana Angelino SRL in basso a Crognaleto inaugurata la nuova primaria dopo il terremoto una bella notizia e poi per le elezioni i scrutatori per le regionali saranno scelti tra i disoccupati morti avvelenati siamo a Giulianova i gatti del cimitero trovati cinque esemplari uno che era moribondo è stato salvato da un veterinario un altro è scomparso presentata una denuncia ai carabinieri mentre tempo fa come successo per le galline ci fu un esposto contro i felini altre notizie scatta il daspo per il tifoso della Sant' ancora Giulianova bloccato mentre butta rifiuti dentro il porto e poi Passamonti mi candido con una civica siamo a Pineto o Paolo Passamonti Pinetese e Doc che adesso si ci mette in un'altra avventura come vedete stiamo per andare allo sport ma torniamo ovviamente su il centro perché siamo a Chieti investita e uccisa dal bus autista condannato a tre anni donna ai 68 anni travolta in via Pescara conducente distratto dal cellulare e in basso paziente morto gli indagati salgono a 21 l'inchiesta sul decesso un 64enne di Bucchiani con Villapini oggi in programma l'autopsia verso le regionali candidati quattro assessori su otto sempre a Chieti metà giunta la prova del voto Chieti con l'Antonio in appoggio a Di Stefano Di Biase pronta a scegliere Forza Italia Udc punta su Viola Bevilacqua a caccia di preferenze con la Lega primi nomi anche nel movimento 5 stelle in basso autovelox controlli sulle gomme guardia grele pattugli dei vigili in strada ecco date luoghi degli accertamenti con la ZES siamo a Vasto raddoppia l'area industriale il perimetro di Punta Penna salirebbe da 244 a 583 ettari allarme di celenza sviluppo impetuoso altre notizie Valle del Trigno strade mulattiera i lavoratori chiedono degli interventi e poi siamo a San Salvo regionali c'è anche Travaglini consigliere comunale nella lista con Legnini nella lista Abruzzo insieme a Teramo il dopo terremoto riaprono le scuole in medie in due paesi a Isola una sede provvisoria mentre a Totte è stato inaugurato il nuovo plesso pagato dall'Emilia Romagna in basso siamo proprio a Teramo al via i lavori sul campanile del Duomo dal cronoprogramma messa in sicurezza della torre dovrebbe essere completata entro fine marzo acetilene e pezzi di auto scoperti nell'ex Brico Nereto la fornace è dismessa dagli anni 90 non è mai stata recuperata scatta l'indagine il sospetto è che vi siano che vi si svolgano attività abusive di carrozzeria altra notizia entrò in campo di fide di tre anni a un tifoso della Sant'Egidiese come abbiamo visto anche su il messaggero Passamonti rompe gli indugi siamo a Pineto si candida verso le comunali l'ex sequestore di Pescara annuncia che correrà da sindaco con una civica il suo nome era stato contestato dalla Lega e dunque inchiesta degli scuolabus chiesta l'archiviazione Atri per la procura non ci sarebbero stati inadempimenti nel servizio da parte della ditta Angelino e poi a Silvi il distretto sanitario ancora immerso nel degrado gli utenti chiedono provvedimenti da parte della Asle che siano immediati ovviamente la fiera degli schiaffi cartelli contro biondi non è la mia indole scatta la protesta delle opposizioni dopo le contestazioni al sindaco e a Salvini al vaglio della polizia i filmati del parapiglia gli insulti apparsi su facebook in basso Martina parte dall'Aquila la doppia sfida l'ex ministro Lancia Legnini è il candidato giusto si propone alla segreteria PD attacca Salvini e Di Maio dall'altra parte siamo in Marsica terrore e danni sette anni di incendi attentatore confessa ditte bruciate e Molotov contro le auto tra San Benedetto dei Marsi Pescino e Ortucchio indagato un imprenditore barista morto cartelle cliniche sequestrate luco dei Marsi denuncia presentata dai fratelli l'uomo per 36 ore al pronto soccorso domani l'autopsia in basso rubati 10 vitelli e 70 maiali da un allevamento colpo grosso nell'impresa zootecnica dei fratelli Petriccone a Cappelle portati via anche tre camion inchiesta sul campus siamo a Tagliacozzo ecco i documenti acquisizione di atti in comune per presunte criticità sulla gara di progettazione il fascicolo in procura è lo stesso di Celano a centropagina anche l'ospedale partecipa al test di protezione civile ospedale di Avezzano e poi che cozzalone da brividi a Roccaraso e non per uno spettacolo il comico soccorso del bus navetta al sindaco di Donato il siparietto tra i due spopola sul web prima di passare allo sport vediamo rapidamente anche la città andiamo in provincia di Teramo queste sono le parole dell'assessore di Teramo al comune di Teramo Ponziani libero fischio in libera fiazza nel mirino per aver cantato bella ciao con i ragazzi di sinistra all'indirizzo di Salvini l'assessore cita Pertini e il PD presenta i sette candidati Teramani alle elezioni regionali soluzione sarà una soluzione tampone per le donne sfrattate da Salvini dopo due mesi e mezzo passati in macchina madre e figlia tra una settimana avranno una casa che sia di parcheggio la Delfico prende il posto della Savini presentata alla scuola media nel centro storico servizi extra mensa rientri laboratori settimana corta orario fino alle 18 del pomeriggio nell'altra pagina pagina 8 gli scrutatori saranno scelti come abbiamo letto neo 18 anni e disoccupati passa la linea proposta ad averla a favorire partecipazione senso civico popolazione disagiata e anche una certa qual rotazione che non fa mai male sfida 4 per l'ordine degli avvocati in lizza le liste di Ambrosini Acronzio Rago e Mosca nominata a porte chiuse la commissione elettorale nell'altra pagina Befane di festa con poliziotti e pompieri la NPS sceglie il comunale con l'attrice Giorgia Calandrini Grisue i vigili del fuoco il bagno di folla in piazza Martiri altre notizie isola del Gran Sasso le medie hanno finalmente una scuola inaugurata la sede temporanea nei locali della futura materna aspettando la realizzazione del polo scolastico passiamo adesso allo sport e ovviamente partiamo dal Pescara siamo sulle colonne del centro i numeri delle girone d'andata il bel cammino del Pescara in vine le prime 18 gare solo Zeman meglio di Pilon il record nella storia è del Boemo 33 punti come vediamo nella ricostruzione nello specchietto uno in più rispetto alla squadra attuale e a quella della prima promozione Inacon Cade che nel 76 il 77 come vedete fece mesi insieme anche 32 punti ovviamente parametrati rispetto ad un campionato che allora segnava due punti per una vittoria però vedete sono comunque nove vittorie cinque pareggi e quattro sconfitte esattamente come il cammino di Pilon fino a questo momento in basso ovviamente è momento soprattutto di mercato Rossi rinnova con la Lazio ora il Delfino deve accelerare Alessandro Rossi che ha allungato il suo contratto fino al 2022 con i Biancocelesti e adesso potrebbe arrivare in prestito alla Pescara il Monza invece segue Andrea Palazzi Monza scatenato nel mercato di Lega Pro mercato di Lega Pro a cui passiamo perché Teramo spiazzato Costantino rifiuta l'offerta di Campitelli centroavanti Pinettese del Suttirol valuta le proposte di Gubbi e Triestina intanto Galli è il nuovo preparatore dei portieri la Mirie del Grosso sfrecciano a Celano il podismo 150 atleti sfidano la neve e il freddo nel cross trail della Befana in basso ciclismo sabato 26 gennaio la festa regionale a Tollo confermata dal 30 giugno per il sierente bike marathon tricolore vediamo in serie D va stese il ritmo da playoff l'Avezzano cerca rinforzi svolta biancorossa con Montani in panchina ma Bolami frena obiettivo salvezza i marsicani Lavezzano Pineto Francavilla e Notalesco anticipano il prossimo turno a sabato e ovviamente noi vi terremo compagnia proprio sabato con quando ci sarà ovviamente il clou della giornata di campionato nel pomeriggio con Diretta Stadio alle 19.30 con l'Abruzzo del Pallone per raccontarvi una giornata che non sarà completa chiaramente perché poi il giorno dopo dovrebbero giocare sicuramente la vastese e molto presumibilmente forse vedremo se ci saranno sviluppi anche il Giulianova comunque sarà una giornata non completa ma ovviamente poi vi daremo conto anche dei risultati dei servizi delle voci delle partite che non si giocano il sabato pomeriggio appuntamento dunque sabato Diretta Stadio prima l'Abruzzo del Pallone poi come siete abituati come ogni domenica sul canale 14 del Digitale Terrestre in eccellenza invece il Chiede e l'Alba Adriatica sono macchine da gol eccellenza rischio alla posizione dell'allenatore della Torrese Narcisi andiamo adesso sulle colonne del messaggero Pescara rompi gli equilibri di B a parlare è Marcello Donatelli il vice di Oddo prova ad analizzare il campionato più difficile lo definisce Donatelli il Delfino ha tutte le carte in regola però per puntare dice Donatelli alla promozione in serie A a centropagina del sole Cocco se ne vanno davanti arriva Bellini sono due i due attaccanti che dovrebbero lasciare presto il bianco-azzurro per il calcio a 5 Acqua e Sapone Rieti in Coppa per riscattare la Beffa la squadra di Barbarossa la chance di centrare la prima qualificazione alle finali dall'altra parte Teramo Giorgi C Costantino dice di no l'ex centrocampista dell'Ascoli in città l'attaccante il Suterol va alla Trestina si complicano gli arrivi di Bianchimano dal Perugia e di Sparacello dalla Virtus Francavilla altre notizie che riguardano invece il campionato di serie D Notaresco non bello ma è comunque in zona playoff Teramani giocheranno sabato a Recanati l'ambiente è ovviamente carico e poi la vastese rivoluzionata ha trovato la strada giusta con l'arrivo di Fabio Montani ma anche con il rinnovo di con il rinnovamento di gran parte della Rosa Pineto invece anticipa a sabato la trasferta di Matelica mister Amalo catechizza la squadra dopo il pareggio non esaltante trovato sul contro il Francavilla e poi andiamo all'ultima pagina Sieco nel segno dei di top sorrenti siamo al vol il giovane Cosentino è entrato al posto dell'infortunato Dolfo e ha trascinato i suoi nel romante tie break contro il Grotta Azzolina ma ritroviamo altre notizie di serie D Francavilla il segreto di una difesa d'acciaio per il basket Roseto si chiude un girone tra gli applausi tifosi soddisfatti nonostante il K.O. contro la Super Fortitudo Bologna in basso si torna a parlare di calcio Avezzano il cuore non basta adesso servono rinforzi per cercare di centrare la salvezza bene questa era l'ultima nostra notizia per questa mattina vi ricordo l'appuntamento alle 14 con la prima edizione la prima delle tre edizioni del nostro telegiornale mattino 6 invece torna domani mattina puntuale alle ore 8 è tutto buona giornata l'anno l'anno Grazie a tutti